Conclusa la festa della Madonna di Ognina con 11 giorni intensi e momenti vissuti con grande religiosità che come ogni anno si sono svolti in santuario come la tradizionale svelata della Madonna, ma soprattutto la solenne concelebrazione eucaristica preseduta quest'anno da Padre Angelo e la processione attesissima con il simulacro di Santa Maria di Ognina a mare, la barca con il simulacro della Madonna, percorso il golfo di Ognina, la scogliera, Asci Castello, incontro con la comunità parocchiale di San Mauro Abate, Asci Trezza con l'incontro con la comunità parocchiale di San Giovanni Battista, San Giovanni Licuti, anche qui un incontro con la comunità parocchiale di Santa Maria della Guardia, Piazza Europa, Zona Stazione, incontro con la comunità parocchiale del Santissimo Sacramento ritrovato in serata, l'apprezzato spettacolo piro musicale presso il molo di Ognina che ha concluso la festa.